Partire. Partire verso un paese lontano. Ricominciare da capo. Un viaggio. Con nuove opportunità dall'altra parte. L'aria di un nuovo inizio. E una casa, con le finestre grandi. E un posto dove rilassarsi. Dove riposarsi alla fine di una giornata. E immaginare quella dopo. E quella dopo ancora. E un tavolo per invitare la famiglia. E gli amici. Grande. Un tavolo grande. Per accoglierli tutti. E ridere. Perché senza ridere che vita è. E poi qualcuno. Con due grandi occhi scuri. A cui piaccia la musica, magari. E ballare. E viaggiare. Uno con cui fare qualcosa di speciale insieme. Ma speciale per davvero. Speciale come una famiglia. ma questa. Questa non è la mia storia.